In alto è Percotti, Gormek, batteria numero 4! Gormek Percotti a telefone all'attacco di battaglia al passaggio del primo tiro! Gormek Percotti a telefone all'attacco di battaglia al passaggio del primo tiro, Gormek Percotti a telefone all'attacco di battaglia! Gormek Percotti a telefone all'attacco di battaglia di Percotti a telefone all'attacco di battaglia! Gormek Percotti a telefone all'attacco di battaglia al passaggio del primo tiro! Gormek Percotti a telefone all'attacco di battaglia al passaggio del primo tiro! Gormek Percotti a telefone all'attacco di battaglia al passaggio del primo tiro! Gormek Percotti a telefone all'attacco di battaglia al passaggio del primo tiro! Gormek Percotti a telefone all'attacco di battaglia al passaggio del primo tiro! Gormek Percotti a telefone all'attacco di battaglia al passaggio del primo tiro! Gormek Percotti a telefone all'attacco di battaglia al passaggio del primo tiro! per me che guardi attenzione per il coppo in variante le posizioni all'interno più o meno al comando attenzione si qua sotto Dico fuggire la perdita ferma per me che trovi per me che trovi allora di ricordo arriva da Piera Scanchi primo stop avvento nell'ordine per me che trovate in seconda posizione e allora e allora vedete attenzione Gormek lì domani ritiene di certine Bonzinelli quarto Fuggire la perdita Gormek Vicentino ultima tornata in variante le posizioni Vicentino l'attacco attenzione all'attacco di Nicolás ultima staccata Bagnero Scacchi addirittura d'arrivo Gormek Vicentino Fittane e Boncinelli nell'ordine e allora attenzione a Carpanese a Gormek a Castagna quattordicesima batteria vale comando Gormek attenzione velocissima passa Castagna Castagna Gormek Carpanese nell'ordine Castagna Gormek e Carpanese hanno ancora dalla prima alla testa Bonitore e siamo in attenzione d'arrivo Bagnero Scacchi Pacco Castagna Gormek in seconda posizione Carpanese in terza Gormek e Sandinelli e l'altro Floreno nelle prime tre posizioni saluta per non svelo attenzione Gormek 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 ver Gormek ad W e allora eccolo qua un altro finalista di giornata lo sloveno Hans Gerbeck attenzione alla luce verde attenzione Covatti ripassa Castagna vicinissimi due Castagna Covatti dietro Gerbeck va Covatti rinunciato attenzione Castagna vicinissimi due vicinissimi terzo lo sloveno al quarto due giri alla termine ancora vicinissimi Covatti Castagna e allora due giri alla termine problemi per Vicentine passa Gerbeck vicinissimi il libero del secondo del campionato italiano ultima tornata attenzione all'attacco in eterno di Castagna attenzione a Castagna all'attacco in eterno siamo l'ultima staccata bandiera Scacchi e nel ordine Coratti Castagna seconda posizione on attenzione Grazie a tutti.